Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale La morte del piccolo Francesco ascoltato dall'ordine il medico del 118 che visitò il bambino prima di portarlo in ospedale A Fano, nel quartiere della Trave, spunta un'antenna gigante dei telefoni residenti in allarme Sulle strade fanesi, nuova segnaletica e lavori di adeguamento nei parcheggi e sulle piste ciclabili fino a luglio Attenzione a bisce e serpenti che in questo periodo vanno in amore e se ne trovano in gran numero, nelle marche molto diffuso il bianco Il tempo sta cambiando, ancora qualche ora di caldo intenso e poi l'arrivo dei temporali anche sulle marche Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Benvenuti a questa edizione del telegiornale La morte di Francesco, il bambino di 7 anni di Cagli che è morto per una otite curata male Oggi nella sede dell'ordine dei medici a Pesaro è stato ascoltato il medico del 118 che visitò il bambino prima di portarlo in ospedale Massimiliano Mecozzi, il medico omeopata indagato dalla procura assieme ai genitori per la morte del piccolo Francesco Bonifazi Sette anni di Cagli, a causa delle conseguenze di un'otite curata solo con rimedi omeopatici Risponde alle domande postegli dall'ordine dei medici, non di persona ma affidando la sua verità ad una memoria scritta da ieri In possesso del dottor Mattistini, il presidente dell'ordine dei medici La linea difensiva dell'omeopata la prospetta il suo legale, l'avvocato Enzo Carella Secondo il quale il suo assistito non ha mai impedito ai genitori del bimbo né di andare all'ospedale e neppure di prendere farmaci convenzionali Fatto sta che nella tragica notte del suo ricovero egli parlò con il medico del 118 Che a luna di notte arrivò in casa dei Bonifazi perché il piccolo Francesco versava in uno stato di semi-incoscienza Il quale gli disse che il bambino era in codice rosso per gravi deficit neurologici Ed è stato proprio il dottor Mirko Volpi del 118 nella mattinata di oggi a spiegare al presidente dell'ordine Quanto accadde in quei convulsi minuti nella casa dei Bonifazi con la madre che gli passò il cellulare per parlare con il mecozzi Perché non sapeva che cosa fare Questa mattina abbiamo sentito il collega Mirko Volpi che si è reso disponibile a collaborare con l'ordine dei medici Abbiamo avuto un'audizione di circa tre ore in cui il dottore ci ha spiegato come sono andati realmente i fatti E adesso abbiamo in programma venerdì su richiesta dell'avvocato della famiglia di Francesco Abbiamo in programma l'audizione dei parenti E quindi come vedete stiamo continuando le indagini per quello che possiamo fare In attesa di raggiungere il clou con la convocazione della commissione medica Che sarebbe la commissione di disciplina dell'ordine Che si riunirà probabilmente mercoledì della prossima settimana Ancora non l'abbiamo convocata perché chiaramente aspettiamo di sentire i parenti del piccolo Francesco Incidente stradale questa mattina sulla statale Adriatica 16 intorno alle 10.30 L'altezza di via della Galassa, la strada che conduce a Ronco Sambaccio Due mezzi coinvolti, una Fiat Punto, un vecchio modello e un fiorino Che per causa ancora da stabilire si sono scontrati provocando diversi danni Illesi gli occupanti dei due veicoli che hanno deciso poi per la constatazione amichevole Sul posto la polizia locale di Fano che ha gestito il traffico e le lunghe code che si sono formate Soprattutto in direzione Pesaro I lavori di adeguamento di un impianto di telefonia mobile nella zona della trave a Fano Hanno messo in agitazione i residenti che temono un aumento della potenza dei segnali E di conseguenza un pericolo in più per la salute Un inquinamento elettromagnetico derivante da antenne E quanto temono gli abitanti della zona trave che ci stanno contattando in queste ore Per sapere dei lavori ad un tralicio della telefonia Diventato più grande, più alto e con operai della team Che operano schermati da grandi pannelli a notevole altezza dal suolo In realtà, ci spiegano i responsabili sul posto della Telecom, non si sta facendo altro che sostituire L'antenna provvisoria, più bassa e quindi potenzialmente peggiore Con una cella migliore e anche con i 4G per i moderni smartphone che alla trave non arrivava fino ad oggi Nessuna potenza aumentata quindi e nessun pericolo di elettrosmog Tutto in regola comunque e tutto secondo le autorizzazioni comunali Da tempo approvate in consiglio e secondo anche i rilievi dell'ARPAM Come ci rassicura l'assessore all'ambiente del comune di Fano, Samuele Mascarin A sua volta questa scelta nasce sulla base di uno studio che ha fatto ARPAM Sull'intera città nel 2004 e che in quell'area individuava per l'appunto Lo spiazzo nel quale si sta intervenendo Come quello che poteva risolvere in maniera migliore La situazione dal punto di vista dell'impatto ambientale Ricordo che da questo punto di vista noi abbiamo fatto anche un incontro Aperto la cittadinanza il 15 dicembre del 2014 Quindi ormai qualche tempo fa Proprio per illustrare le caratteristiche di questo intervento Che si stava all'epoca prospettando come ipotesi E che oggi trova una sua attuazione E comunque sia grazie a una convenzione che noi abbiamo attivato con ARPAM Abbiamo un monitoraggio di tutte le antenne su tutto il territorio del comune di Fano Tutti gli anni quindi abbiamo un monitoraggio annuale di tutte le antenne L'ultimo monitoraggio ha rilevato nel sito specifico un valore massimo registrato di 0,5 volt metro Ed è un valore diciamo ai limiti di rilevabilità della strumentazione Per diciamo tranquillizzare i cittadini all'interno di questa convenzione Noi abbiamo comunque sia un servizio se vogliamo a domicilio Ovvero tutti i cittadini che ne volessero fare richiesta Possono diciamo contattare l'ufficio ambiente per richiedere un monitoraggio all'interno delle abitazioni Questo a scanso di qualsiasi diciamo paura che ci può essere in ordine all'installazione dell'antenna L'associazione fanese l'Africa Chiama propone ai giovani diversi progetti legati al servizio civile in Italia e all'estero Un'esperienza concreta nella solidarietà internazionale Che ha l'obiettivo di stimolare un senso di cittadinanza attiva nei volontari E' questa l'esperienza che l'Onlus l'Africa Chiama offre ai giovani che decidono di impegnarsi nel servizio civile Allora tu sei partita con il servizio civile e poi sei rimasta qui insomma Sì esatto io ho fatto il servizio civile presso l'Africa Chiama l'anno scorso Ed è stata un'esperienza altamente formativa sia dal punto di vista professionale che personale E quindi sono rimasta anche quest'anno con un part time qui e mi trovo benissimo Un'occasione per mettersi in gioco dunque e rafforzare le proprie competenze rispetto all'ambito del progetto Ma anche le doti relazionali e la conoscenza delle tematiche globali Scegliendo un progetto in Italia in cui i volontariati avranno l'opportunità di contribuire alla realizzazione sul territorio Attraverso attività di integrazione, sensibilizzazione e informazione Le attività principali che abbiamo portato avanti sono state il doposcuola per figli di genitori stranieri Abbiamo raggiunto un buon numero, 15 ragazzi e bambini che hanno partecipato Io nel 2011 sono partita per l'Africa per un periodo breve di volontariato in Kenya in particolar modo E da lì sono rimasta insomma in questa grande famiglia che l'Africa Chiama E ho anche deciso di fare servizio civile Oppure un progetto all'estero in cui si potranno impegnare come operatori della solidarietà internazionale Aderendo al progetto Caschi Bianchi Attivo in aree di conflitto sociale per la tutela dei diritti umani Il bando di quest'anno scadrà il 26 di giugno C'è possibilità di inviare la domanda tramite raccomandata, tramite posta certificata Oppure di portarla direttamente qua a mano Anche quest'anno l'Africa Chiama cerca sei volontari per l'estero Due per ogni paese, quindi Kenya, Tanzania e Zambia E quattro volontari per la sede in Italia In questo periodo è facile imbattersi in qualche serpente di dimensioni più o meno grandi Nella maggior parte dei casi sono innocui Anche se un incontro ravvicinato con loro non è mai piacevole Solitamente non si fanno vedere ma con la bella stagione anche le bisce hanno il desiderio di riprodursi E sono, diciamo così, talmente distratte da non curarsi di quello che succede intorno a loro Per questo non è difficile incontrarle anche in centro, all'ora dell'aperitivo E sarà così almeno per altre tre settimane dopo le quali torneranno a nascondersi A parte lo spavento iniziale però bisogna ricordare che i serpenti indicano un ambiente sano perché mangiano i topi Nell'antichità erano considerati simboli di sapienza In India sono animali sacri È infatti un cobra che fa ombra al Buddha in meditazione nelle raffigurazioni religiose E non tutti i serpenti sono velenosi o pericolosi per l'uomo La Sardegna è la sola regione italiana nella quale non vi sono vipere Una delle specie più velenose e pericolose per l'uomo Anche se fare una distinzione tra diversi tipi non è per nulla semplice Le vipere si possono ritrovare ovunque in Italia Hanno una testa dalla forma triangolare colore tendente al marrone o al grigio con tratti più scuri È comune trovarli in luoghi in cui l'erba cresce molto alta In modo tale che possono trovare facile nascondiglio riparandosi dal sole sotto le pietre Non è velenoso invece ma è molto diffuso nelle marche Un serpente veloce e aggressivo, il biacco Lo si può trovare sia di colore nero che giallo E può superare i 150 cm di lunghezza È un cacciatore velocissimo, agilissimo E se morsi ce la si può cavare con qualche graffio e qualche goccia di sangue Insomma, allora adesso invece torniamo sulle strade Ma per parlare di segnalettica Perché ci sono dei lavori in corso a Fano Sulle strade per la nuova segnalettica Per la sistemazione di alcuni parcheggi E anche la sistemazione delle piste ciclabili Sono i lavori che interesseranno appunto le strade fanesi per alcune settimane Sono iniziati ieri i lavori di rifacimento della segnalettica orizzontale In alcune arterie cittadine Si è partiti con i primi interventi in via Boscomarina Via Vittorio Veneto, via Abazia e via Togliatti Si procederà nei prossimi giorni poi con l'adeguamento dei parcheggi in via Roma Nell'intersezione con via Togliatti e a San Lazzaro Buone notizie anche per i ciclisti È stata infatti completata la pista ciclabile di via L'Adriatico Vicino al Pesce Azzurro E ripristinato il transito delle bici sul ponte del Canale Albani Operai al lavoro anche lungo le banchine stradali Per eliminare sterpaglie ed erbe infestanti In un'operazione complessiva che permetterà di migliorare la viabilità E garantire il decoro urbano per gli occhi dei fanesi E dei tanti turisti che stanno arrivando per l'estate Abbiamo fatto quello che potevamo con le risorse che avevamo Quindi da questo punto di vista non ho nulla da dire Le ditte stanno lavorando molto bene Il direttore lavoro segue i lavori con precisione Quindi da questo punto di vista siamo contenti Adesso siamo in città Però non trascuriamo certamente anche le zone più in campagna Per cui al di là dello sfalcio a mano Viene fatto con i mezzi nelle zone più periferiche Ancora qualche ora di gran caldo E poi anche sulla nostra regione arriveranno i temporali Allora per seguire queste fasi evolutive del tempo Ci colleghiamo telefonicamente con Francesco Cangiotti Responsabile di Geometeo.it Allora buonasera Cangiotti Sì buonasera direttore Allora che cosa ci attende in queste prossime ore? Ecco ancora questa notte e nelle prime ore di domani Continuerà questa fase di bel tempo Con temperature decisamente estive E oltre alla media In particolare anche le temperature minime Della prossima notte e del primo mattino di domani Difficilmente scenderanno al di sotto dei 20 gradi Su gran parte del nostro territorio Quindi clima decisamente estivo Poi dal pomeriggio di domani Un veloce impulso e stabile Tenderà ad interessare in particolare Le regioni sindazionali In particolare le miglia Romagna Ma poi però nel corso del pomeriggio Questo fronte scivolerà lungo l'Adriatico E quindi anche proprio il contrasto Che si andrà a creare tra l'aria calda presente Questa è corrente un pochino più fresca in quota Determineranno la formazione di fenomeni temporaleschi Che a tratti proprio sul settore nord della regione Quindi nel Pesarese e al confine con la vicina Romagna Potranno localmente essere anche di forte intensità Ma comunque si tratterà di fenomeni abbastanza localizzati E di breve durata Poi a seguire nei giorni successivi Verso il fine settimana Di nuovo l'alta pressione sarà molto presente Quindi ritorneranno a condizioni di bel tempo Con temperature via via di nuovo in aumento Bene, grazie per questo aggiornamento A Francesco Gangiotti di Geometeo.it Riapre dopo un lungo periodo di inattività Lo scimitar, il ristorante galleggiante di proprietà Della Comar Pesca di Fano Già proprietario del noto marchio Pesce Azzurro L'apertura è prevista per giovedì 15 giugno Alle 18.45 sulla banchina numero 8 del porto di Fano Possiamo considerarlo un nuovo debutto Dice Marco Pezzolesi, amministratore unico di Pesce Azzurro Dopo i danni subiti lo scorso anno per il maltempo Siamo intervenuti per ridare al ristorante sull'acqua Tutto lo slancio necessario La cucina di Scimitar è in linea con la scelta di nutrizione E salubrità del Pesce Azzurro Ha detto ancora Pezzolesi Ed è all'insegna della tradizione Per la valorizzazione del pesce e della qualità E' tutto per questa edizione di Occhia Notizia Vi ricordo il 338 49 68 250 Per le vostre segnalazioni anche con Whatsapp Dopo di noi andrà in onda uno speciale Su una mostra dell'artista Bruno Bruni Noi ci vediamo domani mattina alle 7.30 In diretta con la rassegna stampa Grazie per averci seguito Buona serata a tutti Grazie per averci seguito